Amici e amiche di Volombrite, siamo qui con Luis Locobrusca, uno dei formatori del Festival del Teatro di Strada Ciao, allora volevamo chiederti come è andata la formazione e come sono stati questi giorni? La formazione è andata bene, la gente che è venuto era simpatica, era giovane, volevano fare le cose e bene, si abbiamo divertito un po' e oggi hanno fatto la prova Sì, abbiamo visto lo spettacolo, quali sono le caratteristiche che deve avere un buon volontario per partecipare al teatro di strada? Un buon volontario deve essere volontario sempre, anche nel teatro di strada o in qualche altro posto devi essere attivo, deve avere voglia di fare ridere alla gente, di fare quello che tu vuoi perché se sei un volontario non hai la volontarietà non funziona, allora così, un po' più o meno Va bene, grazie e ciao a tutti